Ciao a tutti! Questa sera inaugurazione sughero a Osio. Andiamo! Allora Fabri, ora procederà per il tipo? Allora Fabri, ricapitolando, cosa abbiamo fatto qui? Allora, l'impianto Wifi, cassa, il mio interesse, quindi con attività, router, switch, tutta la parte di rete, la router, la controlla, la scuola di tappesi, bella buona roba! Un po' più, 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 più! Anni, a tutti! E abbiamo anche il commentario di pizza qua. In via Biave a Osio non vi resta che farci un giro, ciao!